ciao ragazzi come andiamo allora nel prossimo tutorial sicuramente faremo una potatura su questa quercia qui anche se un pochettino presto ok non ha maturato perfettamente ancora un po erbacea però sicuramente sopra sarebbe buona cosa intervenire per evitare che non circoli più l'ossigeno e la luce all'interno sta veramente informissimo sta benissimo nulla da dire tiene di starter bonsai concime bomba poi interveniamo sicuramente anche sul su questo tridente questo sì questo ha maturato guardate che legnosità che ha fatto foglie verdissimo quindi ok prossimo video sicuramente interveniamo o su questa quindi l'acero oppure sulla quercia quindi ragazzi ci vediamo molto presto con un tutorial grazie veramente tutti per i complimenti per quanto riguarda il video dell'olmo ciao a tutti ragazzi